La DAD Reggio Calabria ha eseguito un provvedimento di sequestro di beni nei confronti di Michele Serra, 49enne di Reggio, imprenditore noto nel settore del commercio di prodotti casalinghi. Lo stesso è stato coinvolto a maggio dell'anno scorso nell'operazione Fata Morgana, che ha portato all'esecuzione di sette provvedimenti di fermo nei confronti di professionisti e imprenditori collusi con l'andrangheta, nonché al sequestro di varie aziende. Il sequestro ha riguardato otto aziende, di cui sette società di capitali ed una ditta individuale, tutte con sede a Reggio Calabria ed operanti nei settori della vendita al minuto all'ingrosso di prodotti alimentari, di giocattoli e casalinghi, nonché della ristorazione dei giochi e delle scommesse e del ramo immobiliare. In particolare sono stati sequestrati quattro supermercati di rilevanti dimensioni, con marchio center stock e cash and carry e magazzini per oltre 3.000 m2 di estensione, sette immobili aziendali e personali, disponibilità finanziarie per un valore complessivo che supera i 25 milioni di euro.